E subito un nastro benevolo con la cieca Oh no, che gran dritto, come si è appoggiata Adesso arriva proprio il doppio fallo E arriva anche l'Ace a chiudere un game Ah, stava per passare Si è aperto il campo Impressionante Giocando corto E' direttamente l'Ace Ma arriva un altro doppio fallo Pulitissimo questo attacco Ancora il servizio Poi il dritto è una pura forma Non poteva fare meglio anche in questo caso E' ancora il servizio Insomma Un doppio nastro Il dritto vincente Grandissimo rovescio No, con un nastro Ci arriva la Sharapova Che errore da parte della Kvitova Sembrava ancora una volta Questo è uno schema classico Sì Nonostante una risposta corta Contropiede di dritto 30-0 E' buona Ha colpito male Perché Però arriva la Gran Prima Vicinissima la T del servizio Non si guerrita il dritto Alla Kvitova Oh, nel modo migliore Chiude il game Maria Sharapova Brecca zero E soprattutto In un'ora precisa Arriva il primo set Per Comunque ripara Che gran risposta Eccolo qua Il dritto fulminio Dalla perdita di tempo Tra la prima e la seconda palla Della Sharapova No, no, no Che errore L'ha servita su un piatto Che recupero Grande Sharapova In questo momento La Kvitova ottenere il doppio dei vincenti Anche come gratuite Come vedete Stanno allo stesso livello Tuttavia La Sharapova ha ottenuto i punti Ah, questa poi Capolavoro Gran pala di servizio Che ha trovato Annullato da Nishikori Anche Nishikori Aveva avuto un match point Risposta corta Della russa No È buona anche questa Ragazzi Crede che l'avversario L'abbia chiamato troppo tardi Comunque Match point a Ferrer Nel tie break decisivo Due match point che lo spagnolo Ha avuto sul suo servizio Poi Gran dritto di Petra Kvitova Che chiude al secondo match point Maria Sharapova La testa di serie numero 4 del torneo di Miami Batte in un'ora e 32 minuti In un'ora e 32 minuti per la quinta volta in carriera Petra Kvitova Punteggio finale Punteggio finale 7-5 6-1 Un vero e proprio diesel Maria Sharapova Era partita male Ha evitato di commettere l'errore di ieri Versa che non ci siano altri stravolgimenti Come pioggia O match maschili troppo lunghi Quindi per il momento è tutto A più tardi Da Miami